Hai visto Giovanni nel video in cui il mister l'ha riconosciuto con Zomaglia? Che emozione, no? Una cosa incredibile. Adesso ci tocca raccontarvi come cosa abbiamo fatto ogni anno. Dai. Questa è quella dei 111 anni, ricordi presto? Assolutamente. Mister, allora che emozione hai provato? Bellissima. Una cosa incredibile, eh? Allora adesso ti raccontiamo la nostra storia. Della quale tu farei parte a pieno titolo. Noi, il calcio di Lecce è nato il 15 marzo del 1908 e da quel momento noi abbiamo deciso, in concomitanza con l'anniversario, di omaggiare tutti coloro i quali hanno partecipato alla storia di Lecce facendo una maglia storica e giocando la partita con la maglia storica. Abbiamo iniziato il 9 marzo 2019 contro il Foggia, non c'è 1 a 0 se non la valentia. E questa è la maglia. La maglia del 1975 con la promozione di Mister B. Mister B. Esatto. Noi non eravamo in vita 27 anni. E quindi saliamo da questa. Poi nel 2020, siccome marzo era in concomitanza con il triste evento del Covid, abbiamo deciso nel 2020 di lasciare perdere e abbiamo ripreso lo scorso anno, dove giocammo contro il Chievo 13 marzo 2021. E questa era la maglia del 1978, tempi di Lorusso e Pezzella, in cui in quell'occasione abbiamo omaggiato Nardin. Anche Nardin facendo la maglia del portiere, limiti con Nardin. Quest'anno, adesso non me ne vogliono le altre, ma secondo me questa, almeno ho tanti ricordi personali, quindi la ritengo veramente una maglia meravigliosa. Poi l'ionia della sorte è che è coincisa praticamente col fatto che lui si è diventato a me la propria legge. Io ricordo come fosse ieri, quelle risultanze con questa maglia, quando facessi il gol a Napoli. e l'ionia della sorte poi andassi a Napoli l'anno dopo. Quindi veramente, ecco lo dico a tutti i tifosi, sabato è una partita importantissima. Ci terremmo che fossimo veramente in tanti. Sarebbe meraviglioso avere 10, 15 mila, 20 mila spettatori e giocare in una maglia del genere che è veramente bella e raccoglie tantissimi anni di storia. Quindi venite tutti quanti, perché tutti quanti abbiamo bisogno di voi.